Buongiorno Allora, una di queste sere Ho deciso che tornerò a fare le mie dirette serali Delle 9, 9.30 Se siete d'accordo Che dite? Anche perché un sacco di ragazze mi stanno scrivendo Dove sei sparita, che fine hai fatto Sei viva, sei morta Sono viva, sto solo facendo un sacco di tirocini Sto studiando un sacco Ma ritagliamoci del tempo per noi Raga, io ho un problema In questi giorni comunque ho il sonno perenne Cioè dormirei 10 ore al giorno E 10 ore alla notte Non so se è un problema solo mio, ce l'avete anche voi Comunque vado a guardarmi la puntata adesso A dopo